Mi devi dare tutto, altrimenti ti distruggo. Una furia cieca poco prima di morire, quella di Roberto Stefanelli, 33 anni, che dai suoi genitori nel corso del tempo aveva avuto tutto. Soldi, un negozio per la vendita di frutta e verdura e una casa arredata. Ma Roberto voleva sempre di più, al punto da condurre all'esasperazione suo padre Luigi, che dopo l'ennesima violenta sfuriata di suo figlio non ci ha visto più. Ha imbracciato il suo fucile da caccia, ha aperto la porta di casa e ha fatto fuoco due volte, colpendo il ragazzo al volto e a un fianco. E quanto hanno ricostruito gli agenti della squadra mobile e delle volanti, che al termine dell'interrogatorio condotto dal PM Alessandra Fini hanno arrestato Luigi Stefanelli, 68 anni, che venerdì mattina ha ucciso suo figlio Roberto sull'uscio di casa, in via della Repubblica, a Foggia. Intorno alle 11.30 il ragazzo, che svolgeva lavori saltuari e aveva una bambina di due anni, avuta dalla sua compagna, è entrato nel bar di famiglia e ha preteso del denaro da sua madre. Proprio la sera precedente i suoi genitori gli avevano dato 50 euro, che si aggiungono alle altre migliaia di euro che negli anni aveva avuto, anche a seguito di violente pretese. A rifiuto della donna, Roberto è andato su tutte le furie. È salito al settimo piano e ha cominciato a colpire la porta dell'appartamento con calci e pugni, urlando frasi minacciose e offensive contro suo padre. «Ti distruggo, mi devi dare tutto», gridava il 33enne. È stato un attimo. Suo padre ha preso il fucile, regolarmente detenuto, assieme a due pistole calibro 7,65 e 22. Ha aperto la porta e ha sparato due volte, uccidendo suo figlio. Poi, sotto shock, ha chiamato la polizia, confessando il delitto.